ragazzi benvenuti in questo nuovo video dunque la juventus under 17 rialza la testa dopo il pareggio contro la sandoria nella prima partita del nuovo format della serie a e b del campionato serie a e b under 17 vince 3 a 1 il derby della mole lo vince a vinovo al campo le ricky e direi che è assolutamente una partita meritata con la juve che parte subito forte garante si procura un calcio di rigore ma lo stesso garante se lo fa parare c'è una bella ci sono delle belle azioni di stridonk e di stridonk maressa mansur veramente tante belle azioni poi al quindicesimo minuto subito quindi dopo un quarto d'ora colpo di testa di maressa su una punizione praticamente uno schema su punizione maressa porta in vantaggio la juve e da lì il torino subisce il contraccolpo al diciannovesimo infatti a mansur trova un gol in percussione dalla destra con un diagonale preciso e imparabile nella ripresa comunque la juventus ha controllato molto bene il pallone alla fine il terzo gol è opera di dora di otto che dora di dora di otto che veramente un grande talento oggi probabilmente anzi sicuramente il miglior in campo su punizione è una palla perfetta che ha battuto il portiere granata all'ottantesimo il gol di milazzo appena entrato ha accorciato il risultato ma poi è finito con questo derby con il la vittoria per 3 a 1 dei bianconeri e che dire di questa partita possiamo dire che possiamo dire che la partita è stata sicuramente molto molto interessante è stata una bella juve ha vinto secondo me giocando molto bene c'è c'è da dire che il gol preso ancora una volta e il terzo gol in due partite una squadra come la juve che punta a vincere deve cercare di diminuire questi gol presi ecco perché alla fine la juve è una squadra che ha la potenzialità per non prendere questi gol e complimenti a mister pedone perché ripeto sta facendo un grandissimo lavoro e ottima vittoria adesso ricordiamo che il girone è fatto da cinque squadre sandoria sandoria juventus genoa virtus entella e torino e chiaramente può riguardare solo la prima poi passerà la solo la prima passerà al turno successivo quindi poi quarti di finale semifinale quarti di finale semifinale finale io adesso prima nel girone con quattro punti e adesso pronti per il prossimo match che ci sarà settimana prossima ragazzi a me non resta che salutarvi come ho detto prima migliori in campo per me dora t8 e mettete like al video iscrivetevi al canale mi raccomando e fino alla fine forza juventus